La giunta comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola dopo essersi riunita il giorno 29 ottobre ha riapprovato la progettazione il quadro economico di Natale delle Meraviglie, una serie di eventi che già ha riscosso successo lo scorso anno e che punta a rendere anche quest'anno Agropoli una città attrattiva anche durante le festività natalizie. La proposta è partita dal sindaco Adamo Coppola e il progetto si avvale dei fondi regionali del POC 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Il finanziamento da parte della regione Campania sarà di 45 mila euro con il fine di promuovere il territorio proponendo percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto e con la partecipazione delle comunità locali. Verrà effettuata una sola integrazione al progetto esecutivo ovvero l'inserimento del nominativo del direttore artistico. Il Comune investirà un totale di 25 mila euro in questo progetto per una somma totale di 70.500 euro da investire in Natale delle Meraviglie.